Ciao! Oggi ti faccio vedere una poltrona elettrica stupenda! Costa 1300 euro, IVA e spedizione compresa, ma è veramente completa. Abbiamo il portarotolo, il telecomando che comanda tre motori che comandano l'altezza, il gambale e l'inclinazione dello schienale. Andiamo a vederla! Con il telecomando in dotazione possiamo andare a comandare lo schienale. Il gambale, volendo anche in contemporanea e l'altezza della poltrona. Il materasso è bello alto, comodo, resistente, ben fatto, con solide cusciture. I braccioli sono in legno, lisci e resistenti. Il cuscino si può facilmente rimuovere quando occorre utilizzare il foro viso. Il poggiatesta si può alzare e riabbassare facilmente.